il grande fratello è un reality show che da anni appassiona il pubblico italiano ma ogni edizione porta con sé nuove storie e conflitti tra i concorrenti in questa edizione maria vittoria minghetti è diventata una delle protagoniste più chiacchierate attirando l'attenzione per le sue interazioni con gli altri geffini le tensioni tra i concorrenti sono all'ordine del giorno e le discussioni accese non mancano mai di creare scalpore recentemente la geffina ha avuto un acceso confronto con lorenzo spolverato un episodio che ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del programma durante la puntata di lunedì maria vittoria e lorenzo si sono trovati al centro di un'accesa discussione che ha messo in evidenza le divergenze di opinione tra i due la tensione era palpabile e i telespettatori hanno potuto assistere a uno scambio di battute piuttosto acceso maria vittoria ha espresso il suo disappunto nei confronti di lorenzo rivelando anche dei dubbi sulla sua relazione con shayla gatta questo confronto ha messo in luce non solo le personalità forti dei due concorrenti ma anche le dinamiche complesse che si sviluppano all'interno della casa in seguito a questo scontro maria vittoria ha rivelato di aver ricevuto una strigliata segno che le tensioni all'interno della casa non sono solo un fatto privato ma influenzano anche il clima generale del programma le discussioni tra i concorrenti possono avere ripercussioni significative non solo sulle relazioni interpersonali ma anche sulla percezione del pubblico la geffina già al centro dell'attenzione si trova ora a dover gestire le conseguenze delle sue parole e delle sue azioni mentre il pubblico continua a seguire con interesse gli sviluppi